Raga, raga, gli episodi, gli episodi fanno la differenza, gli episodi fanno la differenza, lo dico sempre, il Palermo mince 2-0, scavalca il Cagliari, si avvicina la zona playoff, il campionato potrebbe essere cambiato, chi lo sa, non lo so, ma veniamo a 4 risultati utili consecutivi, non mincevamo in casa dal 4 novembre, ma siamo lì, siamo di nuovo lì ragazzi, e cambiano gli episodi. Prima di continuare devo chiedervi di scaricare OneFootball, l'applicazione più bella che esista sul mondo del calcio, statistiche, risultati, classifiche, notizie, partite del Palermo a 2,50€, insomma chi più ne mette un set completo per gli amanti del calcio solo su OneFootball, scaricate OneFootball nel link in descrizione, mi raccomando scaricate OneFootball. Torniamo alla partita del Palermo e ragazzi, devo dirlo, gli episodi, allora nei primi 20 minuti un Cagliari che sembrava tenere in mano la partita, io già immaginavo i primi commenti, ma non solo li immaginavo, li vedevo nelle chat, tutti umanamente eravamo già scoraggiati e destinati a vedere l'ennesima partita un po' scialba, no? No, invece no, c'è stato quell'episodio dopo le due o tre occasioni del Cagliari che avrebbe, cioè non avrebbe meritato, cioè nel senso ha avuto due o tre occasioni e non le ha sfruttate con Pavoletti, con Nandez, quindi insomma il Cagliari viene iniziato anche bene, però c'è stata quella, diciamo, occasione, cioè quel rigore forse un po' generoso su Sturars, ma noi ce lo prendiamo perché, visto tutte le ingiustizie che sono capitate, noi ce lo prendiamo, Brunori stavolta lo segna, al contrario di Cosenza, al contrario di Venezia, stavolta lo segna, episodio e favore e stavolta lo mettiamo dentro e cambia la partita, da quel momento il Cagliari si praticamente sparisce dal campo per 65 minuti e non lo vedremo più se non praticamente al novantesimo. E adesso ci arriviamo, il Palermo viene in mano la partita, continua a provarci, non si stanca, abbiamo, vedo anche tutti, tutti dentro, tutti dentro la partita, anche Sturars che pian piano lo stiamo recuperando, dice non ha fatto grandi giocate, ma c'è, è dentro la partita, a differenza di Terni, a differenza di tutte quelle che abbiamo visto in passato, Sturars stavolta c'è, è quando gioca, è dentro la partita. Ma non solo lui, tutti come se impareggiabili, lo dico sempre, un giocatore fuori categoria, Segre, Segre che finalmente nel secondo tempo segna il 2-0, un gol importante che lui lo cerca, lo cerca sempre, aveva già avuto un'occasione nel primo tempo di fare il gol ma non ci è riuscito per poco e lo fa nel secondo tempo, lo fa sempre come sa fare lui, di testa, gli inserimenti, secondo gol in campionato per Segre, arrivano i gol al centrocampo, bene. Ragazzi, qual è, allora, io sto sottolineando tutti gli aspetti positivi, c'è una squadra che gioca i campi, a un certo punto al 65-70, Corini butta via tutti fuori dal centrocampo, Entrano, Bro, entra Saric fuori, quindi Segre e Stulars, rimane Gomes nonostante sia morito perché è, Valermo non può praticamente togliere lo sto ragazzo, e quindi poi, che poi uscirà dopo comunque per Bro, diciamo che poi entra Vido per Brunori, dico tutte le sostituzioni, mostruosi ragazzi, noi in difesa abbiamo Bettella nel Searo, due metri di ragazzo, da quando non avevamo due centrali così alti e forti fisicamente, io parlo di fisico, parlo di fisicamente, a me piace tantissimo avere questi due centrali così forti, quindi Marconi ha sempre fatto bene, ha fatto sempre la differenza, però, devo dire la verità, con Bettella e nel Searo al momento la difesa sembra veramente molto più, diciamo, forte nei calci da fermo, nelle palle alte, poi c'è Piaceli che salta, ha salvato anche oggi un sacco di occasioni, soprattutto alla fine, ma ci arriveremo, il Palermo fa uscire anche Brunori ed entra Vido, ecco, io, allora, in dati, allora, quale sono le cose che non mi sono piaciute? Sbagliamo, troppi gol davanti la porta, Di Mariano ha avuto due occasioni incredibili, una davanti la porta, una poi nel tiro a giro, verso la fine, Vido che, praticamente, a parte che lo vedo troppo molle, a parte quei recupero in difesa, però lo vedo troppo molle, anche alla fine, quando ha avuto quell'occasione, un tiraccio addosso al portiere, ragazzi, noi, allora, Di Mariano non gli si può dire niente, perché Di Mariano corre, Di Mariano è lì, è fino al 97, al 100, corre, 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 fa il terzino, fa il difensore, fa l'esterno, fa l'attaccante, fa tutto, allora, Di Mariano non gli si può dire niente, niente, ragazzi, però non segna, io gli voglio bene a sto ragazzo, però c'è bisogno di buttarla dentro, c'è bisogno di buttarla dentro, abbiamo bisogno di una mano per buttare questa palla dentro la porta, davvero, ragazzi, abbiamo bisogno di, quando si aprirà il mercato, mi aspetto qualcosa in tal senso, soprattutto per sostituire Elia, che era già a tre gol. Comunque, il Palermo ha avuto l'occasione di andare sul 3-0, le ha sbagliate, poi, nove minuti di recupero, un'infinità, sta partita non finiva più, è arrivato quel gol, è un po' trovato, dal Cagliari, 2-1, la partita è riaperta, ma il Cagliari, ragazzi, era sparito dal campo, veramente, e noi abbiamo smesso di giocare negli ultimi nove minuti di recupero, e il Cagliari è riaperto, non dobbiamo fare questo errore di chiuderci in questa maniera qui, smettendo di giocare come abbiamo fatto. Però, comunque, ci sta, ci sta che il Cagliari la riapra, perché ha avuto questa foca finale, e comunque il Palermo, per me, ha meritato, ha strameritato di vincere questa partita, e lo dico, e lo controfirmo, e lo dico, e lo ripeto, è una partita che per la prima volta posso dire, davvero, cavolo, l'abbiamo meritata, ma molto più di Modena, per esempio, perché avevamo fatto un gran secondo tempo, però il primo tempo è stato, abbiamo rischiato per tutto il primo tempo, quasi tutto il primo tempo, invece no, stavolta l'abbiamo strameritata, ragazzi. Allora, ditemi cosa avete pensato, non riesco a ricordarmi se adesso dimentico qualcosa, perché nella foca, nella foca, nella foca, comunque abbiamo superato il Cagliari, ragazzi, il Cagliari che adesso deve anche lui guardarsi un po' dietro, e devo dire la verità che un po' mi dispiace per il Cagliari, sia perché è una squadra per la quale io simpatizzo, ora, al diare la partita di oggi, in generale, dico, e mi dispiace per i verani, e spero che veramente, non, insomma, non so cosa sperare, perché dico, spero che si riprenda, ma non, diciamo, non, a spese del Palermo, comunque, gli auguro di riprendersi. Detto questo, ragazzi, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima, e ditemi cosa ne pensate sotto, mi raccomando, nei commenti. Ciao! Allora, Sì!